E così come è rinata la Fenice più volte, anche Venezia deve rinascere con la cultura e con la bellezza che ci ha insegnato la Fenice. Pochi luoghi, forse nessuno, si prestano per nome e per storia come la Fenice ad ospitare un dibattito sulla rinascita di Venezia dopo il ciclone coronavirus. In questo momento di estrema difficoltà, in cui molte istituzioni culturali sono ferme o dall'attività ridotta, e tutti gli esercizi commerciali e turistici sono in grande affanno, la Fenice ha voluto dar spazio alle voci di veneziani, cui è stato chiesto di raccontare la propria idea su quali direzioni dovrebbe prendere la città dopo la pandemia. È evidente che una città che purtroppo è stata un esempio negativo di overturismo negli ultimi dieci anni ha bisogno di fare delle scelte diverse. Bisogna riportare i veneziani ad abitare questa città, perché è impossibile che questa città diventi una Pompei, un parco a tema o, peggio ancora, una Disneyland. L'unica maniera per muovere la gente è aprire, anche in perdita, certamente, non c'entra niente la perdita, non c'entra niente, non dobbiamo pensare a queste cose qua, dobbiamo pensare proprio all'anima delle cose. Essendo una città con pochissimo traffico, c'è solo un traffico acqua, un'aria più pulita, un'aria di mare, per una città di grandissima cultura, piena d'arte e una città meravigliosa, possa essere un esempio di città supermoderna. Ad accompagnare i partecipanti lo scrittore Alberto Tosofei e il direttore generale della Fenice Andrea Herri, padrone di casa e il sovraintendente Ortombina, per un dibattito che sarà diffuso attraverso tutti i social del teatro a partire da lunedì 15 febbraio. Il tema è di quelli che fanno discutere. Il coronavirus rappresenta una sfida per poter migliorare Venezia e il suo sviluppo? L'arte, in ogni secolo, in ogni millennio della storia di ogni luogo del mondo, è sempre stato, in ogni civiltà, un grande motore economico.